Affronteremo oggi il tema del corpo nel pensiero di Henri Bergson, il filosofo francese che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ha dato un contributo importantissimo al nostro modo di intendere il tempo, che ha definito come una dimensione di durata, una dimensione anzitutto interiore, qualitativa, eterogenea, percepita immediatamente dall'individuo, una dimensione diversa quindi da quella del tempo degli orologi, che ne è soltanto una versione schematizzata, simbolizzata, un tempo che infatti è fatto per essere misurato dalla scienza e per essere un comodo appoggio per la vita sociale, ma che perde quella dimensione appunto eterogenea, qualitativa, spessa per una descrizione spazializzata, omogenea, in cui ogni minuto equivale all'altro. Ecco, vedremo che questo concetto chiave della filosofia bergsoniana, appunto la durata, non ha una portata solo psicologica, limitata quindi all'esperienza psichica interiore, ma ha una portata anche ontologica di realtà. La durata viene infatti definita da Bergson come la stoffa del reale ed è l'intera realtà oggettiva a durare, proprio la durata permette l'articolazione tra la dimensione psicologica e la dimensione del reale, tra spirituale e materiale, insomma è proprio con la durata che Bergson risolve addirittura la classica questione filosofica del dualismo tra mente e corpo, tra spirito e corpo. Il saggio in cui Bergson si concentra maggiormente su questo tema è Materia e Memoria, un libro capitale nella storia della filosofia francese, probabilmente il più importante libro di Bergson. Viene pubblicato a Parigi nel 1896, quando Bergson ha 37 anni, era del 1859. Bergson non era ancora il celeberrimo professore del Collège de France, tradotto in tutto il mondo, lo sarebbe diventato appena quattro anni dopo, nel 1900, anche grazie al successo di Materia e Memoria. Questo libro, il secondo libro di Bergson, Materia e Memoria, affronta il tema del ricordo e della memoria, che era stato oggetto sin dall'antichità di letture anzitutto psicologiche, ovvero inserite in una teoria dell'anima, ma che soprattutto negli anni a cavallo traotto e novecento aveva visto imporre interpretazioni sempre più fisiologiche della memoria, in particolare per impulso della nascente psicologia sperimentale. Materia e Memoria di Bergson è una risposta critica a queste nuove tendenze, tanto alle tendenze spiritualiste, quanto alla tesi della psicologia fisica, dello psicologo tedesco Wundt, o in Francia dell'associazionismo di Theodule Ribot, o della psicofisiologia di Charcot, importante medico dal quale si sarebbe recato a studiare anche Freud. Insomma, a tutte le dottrine del suo tempo che tendevano a ridurre l'attività mentale a quella cerebrale. Materia e Memoria rappresenta, rispetto a questa tradizione, una grande innovazione e non a caso entra rapidamente nel dibattito filosofico e psicologico non solo francese ma internazionale. Sarà infatti tradotto in molte lingue e avrà attenzione anche negli Stati Uniti, ad esempio dal grande pragmatista William James, che non appena leggerà questo saggio, scriverà a Bergson salutandolo come un'opera di genio, che opera una piccola rivoluzione copernicana, come fecero a loro tempo i principi di Berkeley o la critica di Kant. Ecco, Bergson era stato apprezzato dal pragmatismo jamesiano anche per il suo metodo rigorosamente empirista, che permetteva a Bergson di sfidare tanto lo spiritualismo ottocentesco quanto il positivismo, dando una visione dell'esperienza più completa e legata anche all'elemento vissuto e non misurabile, come vedremo, della memoria e della percezione. Bergson parte dall'esempio del ricordo per affrontare il tema capitale della tradizione filosofica del rapporto tra mente e corpo. Per farlo chiede al lettore di sospendere le conoscenze che ha, le interpretazioni, che già filtrano la propria lettura di questo tema, per cercare una soluzione che sia più vicina alle conclusioni del senso comune. Per farlo occorre quindi mettere tra parentesi, sospendere alcune tesi, due tesi in particolare antitetiche che Bergson giudica ugualmente eccessive, che hanno polarizzato il dibattito sul rapporto tra mente e corpo e in particolare la teoria della percezione. Si tratta delle tesi idealista e realista che hanno avuto un comune errore, sono cadute in un comune errore. Entrambe infatti sono partite nelle loro analisi presupponendo sin dall'inizio della nostra esperienza uno scarto tra la cosa e la sua rappresentazione. E hanno cercato in un secondo momento di ridurre un termine all'altro. Il caso del realista è stato quello di considerare la rappresentazione come una funzione cerebrale e nell'altro caso, nell'idealismo, la cosa è stata ridotta a una mera idea del nostro spirito. Per risolvere il problema dell'esperienza, senza cadere nell'errore di idealismo e di realismo, Bergson evita quindi di utilizzare i termini di cosa e di rappresentazione riferendosi semplicemente alle immagini. Noi infatti cogliamo le cose solo sotto forma di immagine ed è quindi in funzione di immagine e di immagine soltanto che sarà posto il problema nelle prime pagine del saggio Materia e Memoria che è stato definito infatti proprio per questa sorta di sospensione del giudizio e di ricerca dell'esperienza alla sua fonte una fenomenologia della percezione di Bergson. Certo vi sono differenze con il movimento fenomenologico che si sviluppa negli stessi anni quasi in Germania in particolare ma vi è una comune ricerca di una descrizione dell'esperienza, della percezione prima delle descrizioni intellettualistiche che ne sono state date. Le immagini sono quindi il punto di partenza della teoria della percezione di Bergson. Bergson non le chiama cose, non le chiama rappresentazioni né fenomeni né impressioni né apparenze. Bergson sceglie deliberatamente di riferirsi al termine più vago possibile un termine che gli permette di giocare su entrambi i campi sia sul campo della percezione, dell'apparenza che sul campo dell'essere, della realtà. Dà quindi un solo livello di realtà, la realtà delle immagini che esistono prima di essere percepite ma che sono già pittoresche in quanto percepite. Questa scelta porta Bergson a scavalcare qualunque separazione ontologica originaria tra mondo e coscienza, tra corpo e anima. Si pone da un punto di vista pre-dualistico. Dice, scrive nella prefazione noi consideriamo la materia prima della dissociazione che l'idealismo e il realismo hanno operato tra la sua esistenza e la sua apparenza. Ecco, il termine di immagine qui vuole quindi essere applicabile sia all'universo che al corpo sia alla materia che al contenuto delle rappresentazioni all'oggetto e al soggetto della percezione. L'immagine è una sorta di condizione della percezione e dell'apparire è una condizione primitiva, non soggettiva ancora ma dalla quale il soggetto finirà, come vedremo, per emergere. Le immagini agiscono e reagiscono le une sulle altre in ogni loro parte elementare e seguono leggi costanti le leggi che Bergson chiama leggi della natura sono comodamente quindi calcolabili, prevedibili ma vi è un'immagine che spicca su tutte le altre perché non viene conosciuta soltanto dall'esterno non viene conosciuta soltanto in un modo quindi misurabile, calcolabile ma quindi dall'esterno, da percezioni ma anche dall'interno, con affezioni è l'immagine corpo il mio corpo la percezione infatti avviene a partire dal corpo che viene considerato come vivente e attivo l'immagine corpo è al centro della genesi della percezione della coscienza e più in generale dell'apparire lo scopo del primo capitolo di Materia e Memoria è quindi di esprimere la differenza tra cosa e rappresentazione come una differenza orizzontale cioè data entro uno stesso livello ipotetico di realtà la differenza tra il mio corpo e le altre immagini è quella che introduce la prima la primissima dualità invece della distinzione tra prematura tra soggetto e oggetto tra coscienza e cose vi ha una distinzione tra due tipi di immagini così facendo versioni imposta una delle questioni più classiche della filosofia prendo un nuovo cantiere che viene aperto in modi diversi da molte voci nella filosofia europea di quegli anni e che mira a sciogliere la durezza la nettezza del dualismo classico tra soggetto e oggetto Bergstown inizia il suo ragionamento dalla distinzione tra l'universo e il mio corpo che è una distinzione fondamentale completamente esteriore l'immagine corpo infatti è un'immagine come le altre immanente alla materia ma se ne differenzia proprio per il fatto di essere conosciuta anche attraverso le affezioni la funzione delle affezioni è relativa alla possibilità di azione che ha il mio corpo infatti ha una funzione eminentemente motrice legata all'azione sembra che ogni affezione scrive Bergstown contenga a modo su un invito ad agire e al tempo stesso l'autorizzazione ad attendere e persino a non fare nulla quindi insomma anche il ruolo della coscienza dipende poi da queste affezioni alle quali dà il significato di una iniziativa o di una scelta gli stati affettivi che sono percezioni interne al mio corpo sono immagini allo stesso titolo delle altre immagini come sono quelle che io vedo o che sento le prime si muovono agiscono le une sulle altre le seconde sono movimenti solo iniziati abbozzi di azioni dai quali ci esoneriamo così abbiamo da un lato le immagini dell'universo che agiscono e reagiscono su di loro e dall'altro un corpo che riceve e rende movimento come le altre immagini ma che al contrario delle altre immagini sembra poter dare qualcosa di nuovo al mondo sembra poter scegliere quale movimento rendere in virtù dello stato affettivo che gli permette di sottrarsi dalle leggi di sottrarsi alle leggi della prevedibilità meccanica c'è insomma un solo tipo di realtà e due possibili due diversi tipi di azione possibile la necessità per l'universo e l'indeterminazione per il mio corpo quindi è proprio il corpo scrive Bergson che aggiunge veramente qualcosa di nuovo all'universo e alla sua storia qua già si potrebbe sentire un'anticipazione che Bergson dà del libro che pubblicherà poi nel 1907 l'evoluzione creatrice un altro importantissimo libro di Bergson che gli varrà poi il premio Nobel per la letteratura Bergson era anche una grande penna filosofica e che dà una lettura dell'evoluzione della vita Bergson sembra infatti introdurre già qui lo studio dei viventi la sua intenzione di studiare il corpo come corpo vivente in materia e memoria certo è un'immagine tra le immagini dotato di estensione solidale con il resto dell'universo e le sue leggi ma è anche e già qui parte della storia dell'universo del suo divenire della sua evoluzione arriverà poi a dire c'è questa partecipazione nella dimensione temporale che è ciò che permette appunto di unire anche l'essere umano alla storia dei viventi e dell'universo per Bergson tra le diverse forme della percezione esterna che la biologia ha descritto dalla monera dalle forme di vita più elementare fino ai vertebrati superiori vi è una differenza di grado non di natura questo è molto è molto importante diciamo l'attività sofisticatissima del cervello umano e l'irritabilità delle più semplici forme della materia vivente come le masse protoplasmatiche o le monere hanno una diversa complessità ma corrispondono nel funzionamento sono infatti attraversati da eccitazioni che permettono di esitare tra diversi meccanismi motori di scegliere tra diverse risposte motorie in ogni caso e qui aggiungiamo un altro elemento importantissimo nella teoria della conoscenza di Bergson gli elementi nervosi qualunque sia il loro livello di complessità non mirano ad una semplice conoscenza ma all'azione cioè anzitutto la nostra esperienza è legata all'azione alla ricerca di una risposta pratica quindi rispetto a realismo e a idealismo che vedevano la percezione come una vibrazione sensibile appunto una modalità conoscitiva la percezione è qui per Bergson intesa come un problema che attende soluzioni per mezzo di attività di movimenti quindi percezione e azione sono fuse l'una nell'altra quasi quindi quando avviene una percezione essa è immediatamente tradotta in termini di movimento dal corpo non c'è percezione che non abbia tendenza motoria e vi è addirittura un contributo motorio anche alle dinamiche del riconoscimento delle rappresentazioni alle dinamiche di conservazione del passato nella memoria che infatti può avvenire sia in ricordi indipendenti ma anche all'interno di meccanismi motori di abitudini motorie e il contributo motorio entra anche nella ricerca e nel ritrovamento dei ricordi passati quindi vi è un circuito tra memoria e percezione che poi Bergson spiega nel dettaglio nei quattro capitoli che compongono materia e memoria e che fa fondere queste due dimensioni che pertengono l'una principalmente al corpo quella della percezione e una principalmente allo spirito quella della memoria in una realtà unica quindi in ogni percezione abbiamo l'esperienza di una certa di un certo spessore della durata che prolunga il passato nel presente e che partecipa quindi anche della dimensione della memoria Bergson così restituisce alla percezione la sua durata e in questo modo riesce a spiegarne lo svolgimento in un ritmo che vede trascorrere un momento nell'altro che vede fondersi il passato nel presente la memoria nella percezione l'attività della coscienza nell'attività del corpo questo elemento così attivo del soggetto sarà molto apprezzato ad esempio da Merleau-Ponty che vede in questa origine della soggettività dalla dimensione corporea e percettiva qualcosa di molto promettente che svilupperà anche in modo molto più avanzato nella sua filosofia unendola anche alle intuizioni husserliane dell'io come io posso non come io penso dell'ich kann in tedesco nelle parole di Husserl una ricerca quindi aperta in qualche modo da Bergson in cui la percezione non è più una ispezione psicologica delle cose ma una necessità vitale che si svolge in modo attivo nel mondo questo sarà il centro anche della teoria della conoscenza dell'evoluzione creatrice in cui la natura della nostra conoscenza resta tributaria proprio in primo luogo della nostra natura di viventi la vita viene intesa essenzialmente come azione sull'ambiente circostante la conoscenza a servizio dell'azione e della sopravvivenza dei viventi questo è molto importante anche per la concezione che ha Bergson del rapporto tra scienza e tecnica infatti non ha una visione disinteressata della scienza è contro l'idea greca platonico aristotelica di noesis di conoscenza contemplativa opposta alla prassi l'intelligenza umana per Bergson è una facoltà operativa finalizzata a padroneggiare la materia ed è quindi radicata nella tecnica un'intelligenza fabbricatrice ed è quindi quasi una parentela di scienza e tecnica in funzione dell'utile quindi è sempre un elemento attivo e di sopravvivenza che precede quello contemplativo intuitivo la relazione pratica quindi tra il corpo e gli oggetti circostanti introduce a questo punto in materia e memoria lo scarto tra la materia e la percezione le cose infatti esprimono nel loro darsi l'azione possibile su di loro che corrisponde a quello che chiamiamo percezione in modo del tutto simile al pragmatismo di James figura alla quale Bergson era molto legato e ha lasciato un interessantissimo carteggio la nostra percezione non aggiunge nulla alle cose la nostra percezione questo è molto importante non è un'illuminazione delle cose non è una chiarificazione delle cose anzi è una un oscuramento scrive Bergson la vita esige che ci mettiamo i paraocchi scriverà poi in una conferenza del 1911 la percezione trascura una parte delle relazioni reciproche tra le cose il ruolo del corpo come polo soggettivo quindi non riguarda l'essere delle immagini ma solo la loro percezione lo statuto delle immagini sembra propendere per l'esteriorità e l'oggettività mentre il soggetto è un potere pratico attraverso il quale si riferisce alle immagini la nostra rappresentazione delle cose scrive ancora Bergson nascerebbe dal fatto che esse vengano a riflettersi contro la nostra libertà e avviene insomma qualcosa di paradossale cioè da questo oscuramento da questo da questo impoverimento della nostra percezione sorge l'annuncio di qualcosa di positivo cioè della nostra capacità di esitare di scegliere tra diverse risposte attive la povertà della nostra percezione che è necessaria annuncia insomma il discernimento dello spirito la libertà sembra sempre spingere nella necessità delle radici profonde e organizzarsi intimamente con essa sono le ultime parole di materia e memoria la nostra libertà ha le proprie radici nella necessità si organizza con la necessità della materia lo spirito prende dalla materia le percezioni da cui trae il suo nutrimento e gliele rende sotto forma di movimento in cui ha impresso la sua libertà insomma il corporeo e il mentale il cerebrale e il mentale si presentano quindi come una necessità fisica che è condizione del dispiegarsi della libertà dello spirito tra corporeo e mentale tra cerebrale e mentale vi è insomma una solidarietà ma la stessa che c'è nella metafora di frequente utilizzata da Bergson c'è la stessa solidarietà che vi è tra un abito e il chiodo al quale è appeso la memoria in particolare è un atto di coscienza importante quanto la percezione che preserva però qualcosa di indipendente dal corpo come è l'abito indipendente dal chiodo e che gli permette quindi di affermare la realtà dello spirito e la sua libertà dobbiamo dobbiamo Grazie a tutti.